Ultimi preparativi a Firenze per il primo Toscana Pride, parata dell'orgoglio gay. Dopo la strage nel locale di Orlando negli Stati Uniti sarà un omaggio alle vittime a caratterizzare la manifestazione in programma sabato prossimo 18 giugno. I partecipanti porteranno un fiocco con i colori della bandiera USA e quell'arcobaleno oltre al logo del Pride. Al termine della parata ci sarà un minuto di silenzio e di raccoglimento per commemorare le vittime. Il corteo partirà da Piazza d'Azeglio per poi toccare le principali piazze del centro storico fiorentino.